Ciao a tutti ragazzi e bentornati su questo nuovo video Vi avevo promesso di fare una nuova serie Forse lo conoscete su Destiny Non so se la posso fare perché Non ho mai visto i video però ho saputo che hanno avuto diversi youtuber Aspettate e mi faccio la mia partita e vi farò il toio Ragazzi è così si può scegliere Titano, cacciatore e stregone Ma io mi interessa di noni perché Però cacciatore non è niente male Il stregone non è niente male Si prova a fare cacciatore Maschio bellissimo Capelli No aspetta Ragazzi siamo pronti fine Vi farò il taglio Quando siamo nella partita Ah ragazzi Questa serie sarà A quest'ora Cosdromo 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 Antica Russia Terra Che succede La cosa che sta succedendo Fosto abbandonato Ma che bella Volevo le comprate Poi vi faccio anche che ha 6 di sui versini Mi ricordo Cosa Oh cazzo E poi da solo un gioco Raga Bella Bella Ok Guardiano 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 Non funzionato Sei vivo Ok Oh porca quanti sono Quale fucile Ma dai Come qua L'ho fiusi Se no Fido che tu sappia usare Quell'affare Ma si Ma dai Occhi aperti Tieni d'occhio il rilevatore Siamo dei cacciatori Cosa 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 Poi questa sera Sarà in quest'ora Se c'è tempo Ragazzi c'è stopping Un cecchino Cosa 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 grazie forse ragazzi questo video è finito qui mettete i pollici in su mettete i pollici in su alla prossima video ciao